Assessore Diodati, si torna a parlare con insistenza del progetto che riguarda il restyling dello stadio Adriatico. Nei prossimi giorni andrete a Roma per sbloccare questo progetto. Noi abbiamo mandato una serie di comunicazioni al Ministero perché ci sembrava che non ci fosse grande volontà di proseguire su questi incontri. Adesso il Ministero ci ha convocato, andremo lì e vediamo un attimino se è possibile proseguire su questo percorso o se saremo costretti in qualche maniera a interrompere questo procedimento che stiamo portando avanti. Noi continuiamo a essere fiduciosi, in ogni caso l'obiettivo è quello di togliere questo vincolo allo stadio Adriatico, indipendentemente poi da quello che succederà con la pescara calcio. Un vincolo così importante crea grandi limitazioni anche su un'eventuale possibilità di dare in gestione lo stadio per altre attività. Abbiamo dovuto portare al 36% gli incassi degli impianti sportivi. Questi aumenti hanno portato in linea di massima a un incremento degli incassi di 300 mila euro. Noi solamente evitando di avere la gestione diretta dello stadio Adriatico risparmieremo una cifra che va dai 600 mila euro agli 8-900 mila euro a seconda poi insomma dei lavori che vanno fatti durante l'anno e quindi nel momento in cui dovessimo riuscire a dare in gestione all'esterno lo stadio Adriatico sicuramente questo produrrebbe a cascata una riduzione dei costi per chi vuole andare a fare attività sportiva presso gli impianti comunali.